Di due ruote, una bocca a essere, ed è pronta in postazione, partenza su due ruote, con la mano sull'asfalto, a mano di partenza, eccolo con la grenarina su due ruote. Grazie, si ricorda sempre a tutto lo staff che sta coordinando e al pubblico di stare oltre alle transenne, grazie. Grazie, a voi figliere, a voi, carico di pneumatico, adrenalina cura, adrenalina per voi. Quindi ho dentro un cuore che pulpita per farmi sognare e non farmi dimenticare questa serata. Non sento che qua, carico, sta tremando, ma è sempre per voi. Stai tremando, tranquillo. Allora la macchina che trema, vuole che la devi far scombare. Cosa devi fare a sta macchina? Ma, non so, devi fargli prendere un po' d'acqua là in mezzo tra un po'. No, no, questa no. Ah no? No, allora sta macchina non prenderà acqua, l'ha detto lui, eh. Quindi un applauso prima della partenza per voi questa sera a Simone e a Vercelli. Si ringrazia il Panidaro, tutti gli sponsor, il Comune di Vercelli che ha dato l'opportunità di fare questo evento. E non sarà neanche l'ultimo, questo sarà solo un inizio. Su di musica! Grazie! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.